Sicuramente è stata una squadra che è stata costruita per arrivare nelle prime posizioni del nostro girone, per andare fino al fondo nei play-off, quindi vengono i due sconfitti e quindi sicuramente nella loro testa una vittoria qui a Siena è un bel modo di cominciare veramente il campionato, quindi non sarà una partita facile, è una città che non c'è uguale, la storia non solo della cultura, di quello che si vede, del centro storico, delle persone, però il palazzetto che abbiamo qui è una cosa fenomenale, il mio rapporto fino adesso con Siena, prima di giocare per Siena non è stato facile, però sono molto contento di essere qui, sono sicurissimo che ho fatto la scelta giusta di scegliere questa società e sono molto contento e poi una volta che giochi per Siena è un'altra cosa, il palazzetto qui quando si fa sentire 2.000 persone, 3.000 persone diventa qualcosa di inesplicabile. il pubblico di Siena è un pubblico che capisce il basket, praticamente negli ultimi 15 anni la squadra, questo campo, questo pubblico ha visto e vinto tutto quello possibile e immaginabile e quindi che ti posso dire, è un pubblico che capisce che il basket, che le partite vincono e le partite, i titoli si vincono sul campo e su quello capiscono e sanno quando ti devo dare qualcosa, quando ti devono, diciamo, non dico criticare nel senso negativo, però ti spingere verso, ti dare una mano nelle partite, quello come ti ho detto è una sensazione inesplicabile, inesplicabile.